Eh sì, fumare è piacevole, ma è nocivo alla salute. Guardate quanta catramina è contenuta in poche boccate di fumo. Se permettiamo al fumo di raggiungere i polmoni, questo incrosta le pareti, così. Per questo fumare è pericoloso. Tra fumo e polmoni è più sicuro interporre un bocchino. David Ross, in due soli centimetri, trattiene le scorie e consente gustose boccate di fumo ricco di aroma. David Ross, per non gettar via la tua salute. Grazie a tutti.